buongiorno carissimi amici del segno dei pesci pesci solare lunare ascendente veneziano io vi ringrazio sempre per le condivisioni abbonamenti i pollicini e ci ritroviamo oggi per la vostra lettura generale del mese di settembre generale potete eventualmente andare a vedere i vostri altri segni che stanno arrivando pian pianino se volete qualche informazione più ma essendo generale non è per tutti se avete bisogno di una lettura generale mi potete contattare via mail l'energia che vi accompagnano durante questo mese di settembre è l'energia se vedete spesso ultimamente o durante il mese di settembre l'orario 23 32 questo orario vi dice di essere attenti la prudenza attenzione resta vigilante c'è una tradizione c'è un tradimento insomma qualcuno che vi tradirà che gira intorno a voi una persona proprio dal vostro ciclo stretto e persone che vi sono accanto insomma che non è sincero e che come dire nasconde il suo gioco e probabilmente vi prende anche un po per i fondelli nella schiena ok poi adattate adesso comunque sviluppiamo c'ho anche l'energia del matto un qualcuno comunque che decide forse proprio grazie a quella quel tradimento non lo so per qualcuno ma ci sono alcuni amici pesci che desiderano comunque ecco realizzare un qualcosa di avere un po queste spieglieria di di mettere un po di eccitazione nella loro vita potrebbe portarsi che c'è qualcuno che desidera vivere un po all'avventura che è un sogno nel cassetto che vuole realizzare quindi ecco decide di prendere comunque questo rischio per ricominciare per avere delle nuove opportunità per accogliere questa opportunità per vivere un qualcosa un po magico quindi anche se non sa gli ostacoli che dovrà affrontare ma c'è qualche amico o amica che è decisa comunque a cambiare la propria vita offrendosi una bella avventura in qualunque insomma situazione relazione e proprio di vivere con nella spontaneità di iniziare un qualcosa di nuovo ok qua poi abbiamo la relazione ti salvo ti ho salvato e mi salvo questa relazione qua dovete fare attenzione cari amici perché vuol dire che c'è qualche amico qualche amica dei segni dei pesci che per una ragione fa sempre passare l'altro l'altra prima di sé ama più gli altri che se stessi quindi ecco diciamo che la propria priorità non siete voi ma la persona o le persone che vi stanno accanto a partire da qui spesso queste relazioni sono relazioni che finiscono perché spesso quando la persona che era in difficoltà con la quale eravate e parlando di coppie spesso queste relazioni finiscono perché l'altro una volta che è stata salvata se ne va e quindi voi restate da soli e fa male insomma quindi questa prudenza per qualcuno proprio in una relazione c'è un qualcuno che in quella relazione può essere come dire un qualcosa di doloroso e poi c'ho la carta della nascita che è influenzata dal pianeta venere quindi pianeta dell'amore probabilmente potete avere di fronte a voi un qualcuno del cancro ma non solo e qua si parla di nascita quindi per qualcuno questa nuova avventura da vivere sarà proprio forse come dire accogliere un bambino perché non tutti viviamo le stesse relazioni e situazioni c'è un qualcosa che nasce per me la nascita è anche una rinascita è possibile che con questa prudenza forse uscirete da una situazione relazione che vi permetterà di rinascere e da qui vi riprendete questo questa grande gioia insomma di libertà per potervi fare un nuovo incontro vivere una nuova avventura magari fare un viaggio un qualcosa di nuovo quindi si nasce si rinasce ma c'è anche proprio la nascita di un qualcosa sul lavoro per i miei amici o i progetti c'è ancora la carta del matto e c'è anche la regina di spade questo che mi sta a dire che sul lavoro se avete un progetto professionale c'è qualcuno che è proprio deciso a costruire insomma questo progetto a vivere un qualcosa di nuovo e proprio c'è tanto entusiasmo c'è veramente tanta eccitazione nel senso di vivere questa nuova avventura però per qualcuno forse vi si dice di fare attenzione perché perché se avete già un lavoro che lo lasciate per un qualcos'altro e poi lo vedrete pian piano che avanziamo avendo già fatto la lettura so quindi quello che vi devo annunciare c'è un qualcuno che magari vuole lasciare tutto proprio per vivere questa avventura e godersela però fate attenzione che non fate uno sbaglio che poi dopo ve ne pentite però per qualcuno c'è veramente la nozione di voler un progetto o un nuovo lavoro e che ci state veramente ce la state mettendo tutta c'è veramente questa adrenalina che vi porta o a cercare questo nuovo lavoro e siete pronti anche forse andare a lavorare all'estero o qualcosa del genere ad allontanarvi o proprio di chiare un progetto per le finanze e il materiale o le difficoltà e c'è il tradimento fate attenzione carissimi amici ve lo dicevamo e è possibile che dovete fare marce indietro che se avevate preso una decisione materialmente finanzialmente dovete ritornarci sopra perché c'è un qualcosa che non quadra allora fate attenzione se fate una domanda di prestito se volete comprare una casa se dovete prestare dei soldi poi adattate perché dovete riminire su quello che avevate deciso perché vi renderete probabilmente conto e da qui questa prudenza di fare attenzione che non c'è un qualcuno che è disonesto con voi le difficoltà da affrontare proprio sul lavoro sulle finanze il materiale dovete riflettere siete portati a riflettere perché dovete prendere una decisione dovete fare una scelta allora la difficoltà che avete ad affrontare è proprio il fatto di prendere delle decisioni non affrettate ma di ben riflettere quindi qua è un avvertimento non prendete decisioni che siano finanziarie materiali lavorative insomma progetto non prendete delle decisioni affrettolate sull'impulsività queste sono le difficoltà sarete confrontati ad una decisione ma riflettete e infatti il consiglio vi dice potete avere di fronte a voi in qualcuno dei segni dei gemelli ma non solo questa carta qua io vi do la spiegazione solo sul lavoro le finanze non ma tardo su altro vi parla proprio di dualità e di tradimento il consiglio eccolo qua però il consiglio potete avere avere qualcuno dei segni anche dell'acquario questa è la carta della stella la stella vi dice sempre che non dovete mai perdere fede né speranza che se lasciate le cose pure fluide c'è un sogno che si avvera allora carissimi amici il consiglio è che avete una decisione da fare per affrontare un tradimento un qualcuno comunque che vi tradisce un colpo alla schiena insomma che magari è in cui avevate fiducia per un progetto per un qualcosa non lo so dovete riflettere per prendere la buona decisione siete sostenuti se volete realizzare un sogno dovete prendere veramente una decisione giusta vera con voi stessi a vostra vantaggio il consiglio è che questa decisione dovrete prenderla siete confrontati non avete la scelta vi aspetta un sogno che sia vera però dovete far fronte alla difficoltà di questa scelta e perché la scelta sia giusta dovete riflettere bene qua dietro qua potremmo avere un qualcuno del segno del cancro e c'è proprio il carro voi sapete che la carta del carro parla di determinazione per avanzare però il carro vi dice anche che se non avete il controllo sulla situazione o sulla relazione non andate da nessuna parte quindi dovete davvero avere il controllo totale per prendere la buona decisione e qua dietro ciò il re di spade testa in giù che parla ancora una volta di energie molto negative insomma è di cattiveria allora fate attenzione nel sentimentale c'è la donna potete essere voi come la vostra persona la la vostra amata insomma ci sono dei rapporti sinceri ci abbiamo molto colore verde il colore del cuore e probabilmente eccolo qua per qualcuno c'è anche la nascita ma per qualcuno ci sono anche progetti a due con la carta del matto e e per qualcuno dovete essere prudenti perché perché adesso lo capirete qui c'è la gelosia e c'è la maschera quindi c'è qualche amico dei pesci che comunque allora qua siamo nel familiare ma voi sapete che la famiglia è anche la compagna il marito la moglie allora per qualcuno ci sono delle relazioni molto serene dove si festeggeranno anche delle nascite nascite di nuovi progetti qualunque cosa nell'ambito familiare e l'ambito familiare non è solo il fratello il padre lo zio ma anche la compagna il compagno il marito la moglie insomma è perché la vostra famiglia che sia famiglia del cuore famiglia di legami di sangue è la vostra famiglia qualcuno comunque che sia sentimentale o familiare deve affrontare ancora una volta un qualcuno che è geloso un qualcuno che porta una maschera che non è sincera con voi che non è sincero con voi un qualcuno che mente che tradisce che manipola quindi fate comunque attenzione anche qui nelle relazioni in generale che poi sono tutto collegate no lavoro famiglia amore quello che volete ci sono delle pene e cioè il contratto è possibile che che eravate in associazione con qualcuno e che vi fa tanto male perché la persona avete appreso che non è sincera con voi che magari va fatto anche un colpo duro magari avete voglia di mettervi in associazione con qualcuno che sia famiglia un amico caro un collega caro ma ecco c'è comunque qualcosa che vi fa della pena le difficoltà da affrontare ciò di nuovo la donna e ciò i progetti allora è possibile che c'è un'amica della donna pesci che ha voglia di un qualcosa di nuovo in qualunque tipo di relazione o situazione e questo progetto però dovete fare attenzione o perché forse c'è un qualcuno che approfitterà o semplicemente perché forse lo impedisce probabilmente voi avete un progetto ma la persona che sta con voi o che stanno intorno a voi non sono d'accordo ecco quindi qua anche queste pene è possibile che avete voglia di unirvi con qualcuno che questa persona non è ancora pronta che avete voglia di costruire un qualcosa ecco quindi attenzione per qualcuno ma ci sono comunque i progetti e progetti che riusciranno certamente perché non tutti viviamo la stessa situazione e relazione quindi la difficoltà è che probabilmente dovete fare attenzione a una donna che si opposa se siete voi uomo segni uomo donna perché qua non c'è genere ma ecco fare attenzione comunque a qualcuno che vi impedisce di creare i vostri propri progetti come può essere proprio una donna che vi aiuta. Nel consiglio ci sono proprio le unioni e l'ancora per qualcuno si parla di un qualunque tipo di progetto soprattutto relazionale quindi amore amici famiglia di trovare di unirsi a lungo termine un qualcosa alla quale pensate già da un po' di tempo e per altri sono proprio relazioni di unioni stabili armoniose da parecchio per qualcun altro è quello che vi aspetta un'unione molto ferma insomma con questa ancora è stabile che durerà nel tempo e per qualcuno se ci pensavate da un po' c'è forse qualcuno che si sposa nel mese di agosto ma non solo di settembre ma non solo se per esempio avevate delle difficoltà con un membro della famiglia con un amico o con la vostra compagna c'è qualcuno che ecco promette insomma questo engagement è una promessa anche di matrimonio quindi è forse una promessa di riconciliazione per ripartire insieme perché comunque il legame è forte quindi se si parla di famiglia ci si può parlare di riconciliazione di rinascita insomma per qualcuno poi l'adattate sempre e infatti qua dietro c'è proprio questa rosa che nasce in questo deserto arido un miracolo quindi delle relazioni che si che si come dicono ci saranno delle riconciliazioni persone che fanno pace anche in famiglia con amici che forse era un po' impossibile che dura già da un po' di tempo per qualcuno c'è proprio la riconciliazione e comunque questo miracolo che si produce per qualcun altro davvero un bel progetto che si avvera per l'emozionale spirituale o la direzione divina con l'energia sempre ancora del numero 4 che parla di fondazione stabilità di potere segui la tua strada sempre carissimi amici voi siete persone intuitive seguite sempre la vostra strada 4 più 4 8 8 ci parla di equilibrio e di prendere anche delle decisioni severe infatti qua nelle difficoltà ce l'abbiamo questa decisione che dovete prendere e poi nel consiglio anche dovete per qualcuno prendere una decisione severa e siate bene equilibrati carissimi amici per avere tanta logica e tanto ragionamento veramente equilibrato riflettere in modo equilibrato per veramente andare verso prendere la decisione che è a vostro vantaggio infatti qua con la carta ancora del lotto di prendere questa decisione cioè il maestro artigiano qua mi si dice che qualche amico dei pesci ha delle capacità che deve adesso mettere a disposizione degli altri è possibile che un qualcuno di voi con le altre carte che ho tirato capirete che ha qualche dono e che è arrivato il momento di accettarlo e di metterle in atto per venire in aiuto agli altri per qualcuno si può parlare di essere insegnante comunque avete una possibilità durante questo mese di settembre e lo vediamo con il matto qua di creare progetti anche originali ed è il momento di metterli nella materia per qualcuno qualunque tipo di progetto c'è forse qualcuno che ha avuto qualche idea da genio e sarà il momento proprio di esporle perché il mondo intero insomma ne approfitta ne prende avvantaggio e lo condividete dovete essere nella condivisione del proprio il momento e infatti qua c'ho proprio la guida divina ancora una volta siete guidati siete sostenuti ed è per questo che vi dico che qualcuno anche qualche dono che deve mettere a disposizione degli altri e per finire l'energia del mandala ci dice che devi essere riconoscente delle piccole delle grandi cose che vivi al quotidiano tutto ciò che sembra normale in una vita che sembra normale quindi un qualcuno ha dei doni che deve sviluppare e deve metterli a servizio degli altri ecco carissimi amici poi durante tutto il mese comunque ci ritroveremo per approfondire un po prendete quello che dovete prendere non può parlare a tutti io vi auguro comunque di trascurare un bel mese e poi soprattutto se avete bisogno di una lettura personale non esitate via mail ciao